L'assessore Gallo ha fatto un buon lavoro perché ha voluto fortemente che il concorso mondiale sul vino si svolgesse in Calabria. Ha lavorato per mesi a questo evento, ho incontrato insieme a lui gli organizzatori di questo concorso qualche mese fa. Oggi presentiamo questa attività alla stampa, 50 paesi rappresentati in Calabria, tantissime aziende. Noi abbiamo un settore molto importante, al Vinitaly abbiamo verificato quanta ricchezza ci sia nelle aziende di produzione calabrese. E' necessario però inserire questa capacità di produrre prodotti di buona qualità in un contesto di distribuzione nazionale e sovranazionale. Eventi come questi servono appunto a realizzare questo obiettivo. Quindi complimenti all'assessore Gallo che sta dirigendo il suo dipartimento con grande esperienza e con grande perizia. Noi vogliamo attraverso questa iniziativa promuovere naturalmente il nostro settore Bt Vinicolo, i nostri migliori vini, ma vogliamo promuovere il prodotto territorio. Vogliamo fare in modo che questa Calabria con le sue enormi potenzialità, le sue grandi bellezze, venga conosciuta e si presenti a questi 300 giornalisti provenienti da tutto il mondo con il suo abito migliore. Spetta poi a noi, speriamo di aver fatto un buon lavoro, averla presentata con quest'abito, a coloro i quali lavoreranno e saranno impegnati in questi giorni, a fare in modo che questi giornalisti poi tornati a casa scrivano della Calabria dicendo la verità, che è una regione meravigliosa della quale dobbiamo essere tutti orgogliosi. Grazie a tutti.